Buona serata e benvenuti a questa edizione di Telegram. Oggi è martedì 26 aprile, il giorno dopo, insomma il day after, direbbero gli anglofoni, del 25 aprile. Naturalmente sono state tante, tantissime celebrazioni in tutta Italia per la festa della liberazione che peraltro è una festa particolarmente sentita e portata avanti naturalmente da tutti quelli che sono i reduci di guerra e del mondo dei partigiani e quindi in modo particolare dell'Associazione Ampi. Una festa sentitissima anche a Calenzano con Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, uno dei nostri ospiti stasera che saluto intanto e ringrazio. È una festa molto sentita, ne parleremo questa sera a Telegram anche insieme a Dario Baldi che è il vicepresidente dell'Associazione Laboratorio Italia. Buonasera. Sindaco, insomma una tappa ormai ricorrente, quella della gita a Vallibona, e anche ieri si è confermata insomma una bella partecipazione anche per il numero di persone nonostante il maltempo avesse fatto insomma... Avesse messo un po' paura. Un po' paura. In realtà qualche anno, ma la festa è sempre stata fatta, il luogo è simbolo perché chiaramente è il luogo della prima battaglia della Resistenza Toscana. Ci sono saluti a Duti, a Lanciotto Ballerini, a Vladimir e a Ventrone ed è stata diciamo trasformata anche in una festa di popolo in cui negli ultimi dieci anni Vallibona è diventato un appuntamento in cui si va proprio a festeggiare la liberazione. Si figlia l'occasione per ritornare su quei monti, avere un paesaggio straordinario. Ora abbiamo la possibilità di visitare l'ecomuseo che è stato aperto negli anni passati e quindi in quella cornice fare un incontro e godersi la giornata per i giorni della liberazione che come sempre è un giorno di soli anche quest'anno è stato un giorno di soli. Eccola qua infatti le immagini. Tra l'altro insomma una festa condivisa visto c'era anche la Ciambellotti di Campi di Venezia, se non sbaglio. La festa è fatta in sé che Lanciotto Ballerini sapete era originario di Campi, è morto lì e qui c'è il Cippo in suo onore e quindi Campi è sempre stata partecipe alla celebrazione sia anche il 3 gennaio quando invece fa freddo è stata partecipe anche nella realizzazione dell'ecomuseo. Insomma è un po' la piana che si ricrea anche in questi eventi. C'è stato però anche lì e anche di questo vorrei parlare non per togliere naturalmente il 25 aprile che è forse la festa più importante di tutto l'anno per quanto riguarda l'Italia però ci sono stati dei momenti di tensione in determinate parti perché forse vorrei chiedere anche vostro padre c'è qualcuno che si intesta anche abusivamente in qualche modo questo tipo di festa, ci sono state delle proteste questo è stato il caso eclatante di Milano dove ci sono state insomma le tensioni nei confronti della brigata ebraica con i gridi fuori sornisti dal corteo insomma ci sono stati tanti tanti problemi questo invece è un altro caso a Borgo San Lorenzo lo vorrei commentare con voi insomma cacciamo il nuovo Mussolini con la faccia di Renzi per il socialismo di fatto questo è apparso a Borgo San Lorenzo nel corteo del 25 aprile c'era anche il segretario del Partito Democratico di Borgo San Lorenzo tra l'altro Tim Panelli insomma è un po' bizzarra che si creino situazioni del genere volevo sentire Dalla Balde No, io partendo da questo cartello voglio dire che c'era anche a Prato perché mi è apparsa una foto proprio dove cioè il sindaco Biffoni in seconda fila a questo cartello che secondo me è molto emblematico perché ne parlavamo anche prima in fuori onda si vede che questi signori non conoscevano o non hanno conosciuto cosa è stato quel periodo fascista quel periodo dove c'era Mussolini perché paragonare Matteo Renzi a Mussolini mi sembra una cosa non esagerata di più commentando Milano e anche quello è successo a Roma con gli episodi della brigata ebraica sembra che è anche più grave diciamolo si è molto più grave perché sembra che gli ebrei in Italia non sono stati torturati invece sono stati più di 8 mila quindi dire che cioè gli ebrei hanno rovinato un altro popolo che è quello dei palestinesi e quindi non possono venire a festeggiare il 25 aprile con noi mi sembra una cosa offensiva verso chi è morto e verso chi è stato deportato visto che una manifestazione del 25 aprile più persone ci sono più sono felice anche io anche se ieri non ci sono stata a Valibona anche se volevo esserci tra l'altro il caso di Milano insomma di Roma sono casi eclatanti in qualche modo poi ci sono stati anche dei casi fiorentini che parleremo tra poco di natura diversa però volevo chiederle su quello striscione a Borgo San Lorenzo che poi ricordava c'era anche a Prato ricordava Baldi cioè il fatto è questo c'è stato anche un caso a Borgo San Lorenzo un anziano si è avvicinato a questi ragazzi che ritenevano in mano questo striscione e ha detto ma voi lo sapevate c'eravate quando c'era Mussolini sapete chi era Mussolini ecco perché non vi rendete nemmeno conto di che cosa state dicendo questo è stato un po' quello che ha detto questa persona anziana in effetti sembra un po' anche un boomerang in qualche modo perché in certe feste probabilmente striscioni del genere non hanno nessun senso di esistere il problema di fondo è che queste persone cercano di usare strumentalmente il 25 aprile cioè la festa è una festa nazionale e soprattutto è una festa istituzionale per cui non è la festa dell'uno o dell'altro io la considero come tanti il Natale laico della nostra Repubblica per cui è la festa più importante perché da lì nasce la democrazia nasce la Repubblica nasce la libertà che tutti noi oggi conosciamo e secondo me di fronte a una festa nazionale deve prevalere gli elementi d'unità cioè deve prevalere gli aspetti di festa e non strumentalizzare contro quello contro l'altro chi che sia perché la verità è che non conoscono qual è stato lo spirito di 25 aprile perché i partigiani erano molto più maturi e sanno bene cosa hanno dovuto ingoiare anche dopo il 25 aprile dopo la costruzione dell'Italia per fare un paese unitario quindi sono persone che anche dopo lo stesso Togliatti la storia ce non segna è arrivato a degli accordi a dei compromessi per salvaguardare il bene primario che era la libertà la democrazia e la costituzione è avvenuta dopo quindi il problema qual è? è che non ci sono più partigiani perché sennò questi andavano fuori a pedare nel culo da questi corteghi ma i sindaci i segretari di partito così non possono fare niente non si può cercare di tenere le foreste persone perché è roba gioli si può fare anche lì vale un po' il ragionamento si cerca di essere tolleranti di sminuire per non creare in un momento di questo tipo tensioni o cose che sciuperebbero la giornata anche al Valibono c'era qualcuno che c'entrava poco nella festa si si sapeva e secondo me c'entrava poco perché io posso condividere e posso anche dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni credo che il luogo e il momento non fosse adeguato a parlare né di inceneritore né di aeroporto si era lì a festeggiare la liberazione e a commemorare i tre caduti fra l'altro c'è anche un problema dell'educazione perché nel momento della commemorazione caduti non si sono nemmeno degnati di smettere di usare l'altoparlante e il microfono quando invece appunto se si fa tanto resistenti e difensori di chi c'è morto almeno il rispetto di sospendere il momento della celebrazione ci dovrebbe essere obbligatorio un punto di quello dicevi i segretari di partito o chi per loro il problema di queste persone secondo me è proprio anche esprimersi nei confronti di questi esagitati perché nel momento in cui vai a dire ehi tu cosa stai facendo iniziano a farti fascista 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 ormai questo termine è diventato è stato usato anche troppo e secondo me andare a rovinare una celebrazione come era un ricordo nei confronti dei tre caduti ma in tutta Italia così come a Valibona è un po' esagerato da dire ma chi utilizza questo termine fascista forse il fascista è lui che dice sempre di essere l'antifascista e l'antifascismo c'è stato un caso tra l'altro a Firenze infatti arriviamo anche lì dove sono state anche sporcate con delle scritte offensive nei confronti della polizia e della chiesa in modo particolare delle forze dell'ordine generale ecco era uno e poi non era contro nessuno ma insomma parla da sola e insomma tra l'altro proprio un caso è che da una chiesa dove si teneva una celebrazione sono uscite delle persone per protestare appunto contro quelli che stavano scrivendo delle trasi offensive proprio contro la chiesa sulla facciata e sono stati tacciati di fascisti no che poi più che altro la cosa è che dice che chi ha fatto ciò stava sulla mura di una chiesa del 400 si parla scrivevano bestemmi prima cosa e seconda cosa cioè non è che visto che le persone lo stavano facendo si dice siano anarchici che volevano essere cioè protestare contro gli arresti di settimana scorsa non è che se te scrivi bestemmie sul muro di una chiesa del 400 liberano i tuoi amici anzi fai peggio e rovini la tua città anche perché appunto c'erano anche diversi antagonisti si sono messi in mezzo anche con qualche banchino tra l'altro insomma nemmeno autorizzati quindi probabilmente verranno anche denunciati per questo però insomma per protestare anche tra l'altro contro quegli anarchici che sono stati arrestati perché qualche giorno fa tirarono le molotov contro la stazione dei carabinieri a Rovezzano se non sbaglio che mi sembra il minimo voglio dire che dovevamo fargli il cartello con l'encomio uno tira una molotov no appunto come dire ma il vero anarchico anche se si usa strumentalmente le parole no loro si antagonisti anarchici il vero anarchico le regole ce l'ha dentro non ha bisogno delle regole fuori perché c'ha le regole dentro non è che l'anarchico viva senza regole fa che cavolo gli fare a discapito degli altri cioè ha un concetto questo dell'anarchico bestiale perché questa è una bestia che può fare quello che vuole e lede i diritti e le libertà degli altri il vero anarchico le regole ce l'ha dentro per cui sa quello può fare e quello non può fare se no l'anarchia non potrebbe funzionare e vabbè oggi poi tra l'altro è sino a Nardella insomma è andata a ripulire anche l'oltrarno da quelle cose lì domani saremo ha scritto chiederò anche di essere indiventificati puniti per i reati però Biagioli lei diceva una cosa prima diceva che questi fenomeni accadono perché sembra un po' che qualcuno si voglia intestare queste cose sia a livello politico ma anche a livello insomma così di ordine pubblico e di come abbiamo parlato adesso lei diceva questo succede anche perché mancano un po' cioè piano piano vengono meno anche proprio anagraficamente i partigiani ma in questo modo come dire non c'è speranza sarà sempre peggio secondo lei no 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 io la speranza invece penso ci sia perché comunque credo il nostro Stato democratico sia solido e c'è da fare uno sforzo come tutte le cose per migliorare le condizioni di salute e le democrazia probabilmente c'è uno spazio anche di insegnare la tolleranza perché il primo principio della democrazia è il dialogo cioè quello di accusare gli altri di inveire di impedire la libertà di espressione è la prima forma di scarsa democrazia perché io non voglio dire sono fascisti mi ha detto Dario perché non lo penso però diciamo sicuramente sono degli intolleranti e ha dentro di sé questo tutti i prodromi e tutti i difetti di quelli che loro vorrebbero contestare è chiaro c'è una piazza tra i fascinerosi tra quelli più diciamo che applicano manifestazioni più violente e chi sono più fascivisti di solito hanno la meglio e i più violenti in qualche modo adesso purtroppo sto un po' nell'orrivo delle cose chi fa confusione c'è più rumore e fa più rumore però che abbiano la meglio gli anticorpi ci sono insomma no gli anticorpi ci sono va bene allora veniamo lasciamo queste pagine anche brutte in una giornata invece naturalmente ha tutt'altro da raccontare come quella del 25 aprile passata anche questa si ritorna in qualche modo a immergersi anche nella politica e non soltanto un po' perché nella Piana c'è e non soltanto nella Piana diciamo in Toscana c'è una delle battaglie più belle forse a livello di elezioni che è quella del 5 giugno di Sesto Fiorentino almeno per quanto riguarda la Toscana poi naturalmente ci sono le grandi amministrative dei grandi capoluoghi italiani lì insomma come dire si va avanti a tappe serrate c'è stata sabato mattina la presentazione di Lorenzo Falchi al Grotta Baldicera tra l'altro che piazza a vista diciamola così no la situazione era calda sono stato anche da Zambini per ovvi motivi la situazione è calda a Sesto caldissima anzi proprio siamo già partiti con la campagna elettorale manca ancora più di un mese però i candidati sono pronti la situazione è che al Grotta c'erano persone c'erano persone che avevano voglia di riprendersi Sesto cosa che ho visto comunque in tutti i partiti vedo proprio il cittadino che ha voglia di fare politica di ritornare a dire qualcosa per la propria città già questo di per sé sarebbe un dato perché insomma guardando le astensioni i livelli di astensione degli ultimi tempi non ma Sesto comunque è sempre stato una città molto vissuta dal punto di vista politico Biagione lei come la vede da vicino di casa diciamo così io da buon vicino di casa cerco di essere rispettoso di quello che succede perché mi piace poco mescolarmi nelle vicende insomma c'è fermento che cosa sente? no fermento c'è questo c'è stato anche in questo anno e voglio dire nonostante il commissario mi sembra il comune sia andato avanti e abbia ritrovato una certa serenità quindi credo tutto sommato ora a prescindere dalla campagna elettorale in cui viene fuori sempre come gli aspetti di punta ma Sesto ha tutte le condizioni di riprendere il ruolo che ha sempre avuto e poi alla fine penso sia il comune più importante dopo Firenze tra l'altro sul Sesto c'è un discorso molto importante secondo me che riguarda al di là delle grandi questioni in modo particolare termologizzatore a report ne parleremo dopo c'è un po' la questione dell'identità che è una questione che si pone in modo particolare un po' secondo me a tutti i comuni quando si parla anche delle grandi Firenze quindi delle aggregazioni delle unioni delle fusioni comunali c'è un tema dell'identità comunale dei propri confini in qualche modo che deve essere riproposto Sesto Fiorentino ce l'ha al di là di questo anche forse perché da comune ricco insomma ha vissuto un po' si è un po' da gelato negli allori nel corso del tempo e quindi si è un po' tralasciato forse anche un po' perduto per esempio il circuito della manifattura per quanto riguarda la ceramica certe cose le si sono un po' lasciate perdere forse adesso non si capisce bene qual è l'identità di Sesto Fiorentino grande polo industriale però anche grande polo della manifattura qualcuno ci vorrebbe riparare del turismo a Sesto Fiorentino anche se insomma io lo vedo più difficile invece secondo me il turismo a Sesto Fiorentino sicuramente va riportato perché anche in un'ottica di grande Firenze Sesto Fiorentino può servire come punto di appoggio per poi portare per i turisti da una parte che si possono appoggiare a Sesto spendendo anche meno in un bed and breakfast o in non so cosa e poi spostarsi sul Sesto con dei mezzi pubblici avanzati oppure per gli studenti che possono vivere Sesto Fiorentino e il polo scientifico in maniera vera e non ritornare a casa tutte le sere visto che il polo scientifico è un'eccellenza del nostro territorio questo sicuramente è alla base Biagioli sul discorso della grande Firenze naturalmente c'entra anche Calenzano lei fin dall'inizio ha posto un attimo di attenzione ha detto ok fermiamoci ragioniamo in un secondo ma rischia di rimanerne fuori da questo progetto Calenzano se non sta al passo dei tempi non è che mi preoccupa rimanerne fuori mi preoccupa fare un progetto sbagliato leggevo è quello che ho cercato e dire l'altra volta l'impostazione non può essere annettiamo che ci sta come ridice anche Gianni nell'editoriale di un paio di giorni fa o c'è un progetto che è strettamente collegato alla città metropolitana per cui vediamo cosa succede con le città metropolitane se continua ad essere la città metropolitana di 42 comuni allora probabilmente vale la pena di ragionare delle fusioni dei comuni se come io immagino con la sparizione delle province le città metropolitane non potranno continuare a essere questa dimensione che vale 42 comuni per Firenze ma sono 300 per Torino o altro e quindi lasciano questi buchi dentro un sistema che a questo punto ha altri presupposti e si ritorna a parlare di città metropolitane in ambito urbano allora può valere il ragionamento invece che fa la fusione di grande comune si pensa a costruire una città metropolitana delegando poteri alla città metropolitana smembrando il capoluogo e andando a eleggere il sindaco metropolitano che fa il capo di tutta la città metropolitana per quanto riguarda le grandi strategie la rappresentanza e altro ma si lascia ai comuni quella che è la gestione ordinaria cioè a me fa paura un dire si va Firenze c'ha 350 mila abitanti diventa una Firenze di 500 mila abitanti però il sistema di gestione ordinare rimane quello attuale cioè questo non funziona perché noi si rischia di diventare il sottopartere di Firenze che allo stato attuale mi sembra anche quartieri conteni giusto cioè io vorrei un progetto diverso in cui se si dice di fare una cosa tutti insieme si mette tutti qualcosa sul tavolo non è che noi si prende e si entra dentro la grande Firenze noi si entra dentro la grande Firenze si fanno municipi Firenze delega ai municipi quella che è la rappresentanza attraverso il sindaco o il municipale o quello che sarà però di mantenere un certo tipo di identità un rapporto con il territorio un rapporto con i cittadini cioè quelle che per noi sono valore aggiunto il valore aggiunto oggi non lo vorrei perdere cioè quello della prossimità noi siamo perché l'identità è un discorso astratto io ho un comune in cui l'identità la si manifesta in 13 frazioni non è che se posso sotto Firenze porto un solo calenzano porto un'identità locale ma porto tante identità di frazioni e porto un'identità che si è già acquisita che è quella fiorentina che tutti noi rivendichiamo in termini generali però l'identità significa soprattutto aver cura di proprio territorio avere un'autonomia sui propri territori e stare anche sulle strade e stare sui pezzi in qualche modo di farsi vedere ai cittadini diventa una cosa alla quale noi forse daremo lustro a livello internazionale ma poi in termini pratici la qualità della vita dei nostri cittadini non migliorerà rischia di sentirne Baldi su questo io sul discorso grande Firenze condivido in parte il ragionamento del sindaco Biagioli perché è bene che ogni città mantenga le proprie caratteristiche e anche il proprio campanile perché io ve lo dico sono fiero di essere campigiano ma sono anche fiero di essere fiorentino tra virgolette però ti fa signa per virgolette l'esempio della piana della grande Firenze però sicuramente il discorso grande Firenze non può essere una cozzaia buttata lì però dall'altra parte come diceva Gianni sempre nel solito editoriale bisogna lavorare anche con chi non la pensa come noi quindi come può essere il comune di Calenzano ovviamente no Gianni dice una cosa diversa Gianni dice partiamo con chi ci sta se si parte con chi ci sta o se condivide sì però o se condivide un progetto e poi io sono d'accordo una volta determinato un progetto chi ci sta ci sta non è che si può affermare se i Biagioli o un altro non stanno in quel progetto ma la condivisione del progetto sì perché se io faccio la fusione con Bagliaripolo e con Campi che stanno non entrano più gli ho scandicci ma l'altro perché c'ho sesto l'amministrazione i risultati sono diversi il disegno comune non lo fai più cioè diventa un'annessione per gradi fermo un secondo Dario perché tanto riprendiamo subito dopo adesso abbiamo esaurito il tempo 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio restate con noi che c'è un'annessione per la prima volta che c'è un'annessione Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.